Ora presenterò un'opera inconfondibile, di un pittore inconfondibile, l'avrete sicuramente riconosciuto, Armand, è una scultura ed è un violino, un violino tagliato, decostruito con delle applicazioni in bronzo. Eccolo qui, del 1991, 56x70x17, scultura in bronzo e frammenti di violino. Infatti vedete proprio un violino che è stato tagliato, esemplare 5 di 8, quindi può essere considerata un'opera unica, l'opera è firmata e numerata alla base ed è archiviata presso l'archivio generale delle opere di Armand. 24.000 euro il prezzo della base d'asta, 122esima asta della Casa d'Asta Sant'Agostino, telefonate ai numeri in sovraimpressione per offrire il prezzo di base d'asta, anche per registrarvi la nostra asta che avrà luogo il giorno 10 e 11 giugno 2013. Grazie